Questo lo leggo io ma è da parte di tutta la squadra. Lettere e dichiarazioni rilasciate nel dopo gara di Aversa dal direttore generale della nostra società. Tutti gli atleti, congiuntamente allo staff tecnico, sentono il dover e il diritto di puntualizzare degli aspetti fondamentali. Premesso di essere delusi dal risultato finale della gara, ci sentiamo ancora più delusi da affermazioni che attendono a dignità e responsabilità. La dignità è intesa come considerare importante il proprio valore morale, la propria onorabilità e di ritenerne importante la salvaguardia. È stato sempre uno dei principi fondamentali del nostro gruppo. La responsabilità è intesa come la condizione di rispondere di comportamenti, atti, avvenimenti e situazioni è ben chiara a tutti noi. Principi questi che ci hanno spinto, sin da ritiro estivo, a superare situazioni al limite della viabilità, venendo incontro ai tanti sacrifici economici e finanziari che la società affronta. Situazioni che sarebbero basilari per la vita sociale e civile di qualsivoglia uomo ed atleta. Questi pochi righi hanno il senso di ridare il giusto connotato sportivo ad una sconfitta. Siamo i primi, come premesso, ed essere delusi per l'esito della gara, ma non accettiamo accuse gratuite da chi conosce i problemi che stiamo affrontando. La dignità di uno di noi richiama in questo modo la responsabilità di tutti. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.